Gestione dei calessini in Ortigia, tre condanne e due assoluzioni. Dal Tribunale a Reduceo messe due assoluzioni e tre condanne. Questa è la sentenza legata alla maxirissa scoppiata sotto gli occhi di turisti e passanti nel giorno di Pasqua dello scorso anno in Ortigia tra due gruppi con interesse nel trasporto dei turisti con i calessini. Tutte e cinque furono arrestate dai carabinieri dopo averli separati non senza difficoltà, ma hanno scelto procedimenti giudiziarie diversi. Claudio Guzzardi, 36 anni, Mattia Menta, 20 anni, entrambi difese dall'avvocato Massimiliano Lipari, sono stati assolti. Hanno sempre sostenuto la loro innocenza spiegando di essere stati resucchiati nella rissa solo perché erano stati aggrediti. Gli altri imputati, Simone Scamporlino, 33 anni, Pietro Scamporlino, 63 anni e Francesco Scamporlino, 38 anni, difese dall'avvocato Tittarizza, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e hanno rimediato una condanna a sei mesi di reclusione ciascuno. Secondo la tesi dei carabinieri e dei magistrati della Procura di Siracusa, gli indagati che gestirebbero il servizio del trasporto dei turisti con i calessini, cioè le Apecar, sarebbero entrati in conflitto. Bastò una scintilla per scatenare la rissa a colpi di bastoni. Il legale in un primo momento aveva optato per il rito abbreviato condizionato all'acquisizione delle immagini nelle telecamere di sicurezza, salvo poi decidere di procedere con il rito ordinario. E così il giudice del Tribunale, Liborio Mazziotta, al termine della Camera di Consiglio, ha emesso le sentenze di assoluzione, del resto lo stesso PM si era espresso per un giudizio di non colpevolezza. Claudio Guzzardi, anche titolare di un chiosco per la vendita di Bibbia del Nortigia, l'estate scorsa subì un provvedimento di sospensione della sua attività per un periodo di dieci giorni. La difesa ha presentato il ricorso al Tar di Catania e la recente assoluzione nel processo penale potrebbe essere d'aiuto nel procedimento amministrativo.